Gentili telespettatori buonasera e benvenuti al palafiera palagalassi di Forlì dove la palacanestro 2.015 Forlì tornata capolista seppur in coabitazione con Cecina dopo la vittoria a San Mignato sfida questa sera la Jesse Basket Valsesia di Borgosesia una partita che deve assolutamente servire ai biancorossi per mantenere il comando della classifica a tre turni con questo alla fine del girone d'andata per poi vedere in un campionato che non conosce soste che quindi ci sarà anche dopo Natale con la trasferta di Livorno e quindi con il match casalingo che chiude il girone d'andata contro Sant'Arcangelo di staccare eventualmente il pass per le Final Four di Coppa Italia di Rimini non è certo questo l'obiettivo primario della stagione ma sarebbe comunque un primo segnale importante da dare al campionato è ovvio però che serve ancora per via della sconfitta casalinga rimediato da Forlì con Cecina alla seconda di campionato anche uno scivolone dei Toscani per far sì che questo obiettivo si materializzi questo è un po' tutto il contorno di questo match che commenterò assieme a Massimo Prambos che ovviamente saluto e gli do il benvenuto buonasera a te Enrico buonasera a tutti i tifosi sia di Borgosesia che di Forlì partita che come dicevi te è una partita che vede di fronte l'unieuro di Gigi Garelli contro una squadra posizionata a metà classifica ovvero appunto Gessi Valsesi a 12 punti partita che deve essere ovviamente presa teoricamente con le molle come direbbe Gigi Garelli degli spogliatoi ai suoi giocatori in realtà già Gessi Valsesi a con tutto il rispetto non è pari livello di Forlì oltretutto defezioni importanti ci sono state comunicate con su tutti l'infortunio di Tomasini al ginocchio nella partita vinta di 50 contro Torino domenica scorsa direi che la partita non dovrebbe presentare particolari problemi per Forlì pur senza il capitano Rodolfo Rombaldoni ai box causa influenza esatto obiettivo comunque importante per Forlì sarebbe la Coppa Italia come dicevi tu vuoi perché comunque è un'occasione per misurarsi con squadre di pari livello degli altri gironi vedessi ad esempio Orzi Nuovi che in questo momento sta creando non poche difficoltà nel girone B di questa serie B a Udine squadra nata con l'intenzione ovviamente di raggiungere la promozione ma che in questo momento vede proprio davanti davanti a sé questa Orzi Nuovi che nel frattempo dopo aver ceduto Brighi a Cento è andata a pescare aiutami Roberto Chiacic e poi si parla si parla con la finestra di gennaio addirittura di Alvin Young verso il quale la società di Orzi Nuovi ha già formulato una proposta quindi per Udine veramente difficile per Forlì ripeto sarebbe un'occasione importante la Coppa Italia per misurarsi con qualche squadra di valore degli altri gironi esatto perché l'incrocio sarebbe quello girone A contro girone B, girone C contro girone D sono gli stessi incroci che ci saranno poi nelle Final Four promozione di Montecatini a giugno quindi sarebbe già un primo test importante per chi vuole poi ambire ad arrivare a quel traguardo il traguardo massimo, il traguardo ambito da tutti i tifosi forlivesi dicevamo delle assenze come hai anticipato Massimo Forlì lo vediamo in tutta ma difficilmente vestirà la canotta da gioco Rodolfo Rombaldoni che ha subito un attacco influenzale in settimana però dall'altra parte l'assenza sono ben tre sono quelle perduranti da qualche settimana dell'ala piccola Gianluca Giorgi 4,6 punti di media giocatore del 95 e di Mattia Dotti Dotti è il playmaker di riserva sostanzialmente della squadra anche lui giocatore del 95 ma soprattutto l'infortuno dell'ultima giornata sfortuna clamorosa, farci male al ginocchio contro Torino in una partita vinta con così ampio punteggio è davvero una sfortuna nera l'infortuno dicevamo di Simone Tomasini che è il miglior marcatore di Valsesi assegna 10,8 punti di media Tomasini giocatore che ha militato a Porto San Giorgio ma ancora prima a Treviglio fino anche alla serie B1 partito il match arbitrato da Francesco Menegalli e Andrea Vigato la prima pala 2 vinta dai Biancorossi di Casio il quintetto forlivese è quello canonico la palla è in mano a Pignatti che prende per subito il tiro dalla media rimbalzi in attacco di Pedersini sulla testa del playmaker avversario Pedersini fa valere i maggiori centimetri non c'è taglia fuori partiamo bene 2-0 subito partiamo bene 2-0 subito nonostante l'errore della media di Pignatti ma questo è un po' il senso in cui andrà la partita anche questo errore il gancetto sotto canestro da parte del numero 16 Zucchia ecco ci indirizza già verso una meta precisa di questo match addirittura adesso Rotondo libero di pigliare palla all'interno del pitturato il ridere quasi l'avversario almeno così nelle intenzioni bisogna metterci un po' meno di morbidezza comunque sia qualunque sia l'avversario prova ne sia che appunto Forlì è andata a perdere palla proprio con Rotondo e adesso viene sanzionato una azione fallosa in attacco il numero è abbastanza illegibile di Borgosesi ha il numero 16 e il fallo quindi di Dario Zucca che è il pivot della formazione piemontese anche lui giocatore molto giovane come quasi tutti i ragazzi allenati da Lorenzo Panza che era il vice allenatore di Casale Monferrato in serie A2 intanto Vico in percussione va a trovare i primi due punti della partita 4-0 Zucca giocatore addirittura del 96 squadra giovanissima a parte un veterano che è Walter Santarossa intanto tiro in paleggio e arresto in lunetta l'errore poi rimbalzo proprio di Zucca che sbaglia ancora il gancetto destro è questo il suo classico tiro finora 0 su 2 poi Forlì da l'altra parte si distende in transizione c'è l'errore dalla media ancora di Pignatti prova a correre dall'altra parte Borgossesi e la palla gira per vie perimetrali tentativo di 1 contro 1 si chiude la difesa Forlivese e blinda l'area ancora un errore per il nero-arancio piemontese ancora l'unieuro dall'altra parte con un gioco di precisione quasi di sponda da biliardo alla fine si trova Pignatti a ricevere e a imbuccare il 6-0 ecco insomma Franbo ci siamo beh senza 0 direi che era diciamo assolutamente prevedibile fermo restando che comunque nonostante le polveri bagnate di Pignatti che ha sbagliato due tiri su due adesso va a raccogliere l'imbalzo e poi a cedere per la tripla tentata da Vico entra esce dal ferro il nulla cosmico in attacco per quanto riguarda la squadra ospite ha consentito ovviamente a Forlì di scavare il primo solco 6-0 quando sono passati pochissimi minuti dall'inizio del match eh sì difesa che tiene molto bene nel cuore dell'area e il tiro anche da fuori di Borgosesia non ha fortuna qui si lotta davvero raccattando un pallone dalla spazzatura lo fa trovando il potenziale gioco da tre punti la formazione piemontese con il canestro se non sbaglio di Paulin esatto Francesco Paulin che ha davvero preso questa palla che rotolava nell'area pitturata alla fine ha depositato il canestro c'è anche il fallo di Vico che chiedeva infrazione di passi non di questo avviso gli arbitri quindi potenziale gioco da tre punti sbaglia però Paulin il rimbasto catturato da Michele Ferri lo rigioca per Vico e ancora per Ferri che varca adesso la metà campo palla per Rotondo si va sotto da Pedersini che prova a trovare la via del canestro trova però due mani a oscurargli la via del canestro e poi il tentativo da tre punti dall'arco per Jesse Valsesia che non ne vuole assolutamente sapere di fare canestro questa sera in questi primi minuti di partita e ennesima stoppata però questa volta i danni di Ferri sul contropiede il tiro di tabella di Paulin se non sbaglio esatto di Paulin che porta il risultato sul 4 a 6 non è semplicissimo probabilmente anche per Forlì giocare una partita così però insomma indirizziamola fin da subito cerchiamo di non cadere continuamente negli stessi errori già 3 a 4 sono stoppate nel giro di questi pochi minuti bisogna correggere qualcosa c'è un po' più di determinazione di cattiveria intanto Vico prende un tiro senza troppo ritmo lo sbaglia dall'altra parte ancora Paulin a rigiocare per Quartuccio il palleggio del playmaker con numero 4 va dentro scarica in angolo il tiro che è un airball assoluto controlla bene rotondo il lancio baseball dall'altra parte quasi anche il canestro dopo il fallo subito da Sebastian Vico che quando è lanciato in contropiede sembra davvero un intercity e a 5 minuti e 41 dalla fine del primo quarto con il fallo di Santa Rossa Vico andrà in lunetta si buona la transizione di Forlì in contropiede come dicevi tu intercity ti aggiornerei esiste anche l'alta velocità via Sergio io sono rimasto ai treni a vapore anzi treni di Tozer di Alice Battiato guarda che citazione che ti faccio via nel frattempo va il primo tiro libero di Sebastian Vico a fissare il risultato sul 7 a 4 quando abbiamo stiamo per svoltare la metà del primo quarto errore però sul secondo tiro libero dell'Italo-Argentino palla in mano al numero 4 di Borgosesia Quartuccio poi il tentativo e lo scarico si ritorna sotto conti cominciano a fare un po' girare la palla quelli di Borgosesia e Zucca si va a prendere due punti per il 7-6 Forlì si deve dare una svegliata eh sì mancano 5 minuti e 15 e Borgosesia torna a meno 1 ora è a zona se non sbaglio no no difesa adattata esatto ha cambiato poi c'è un'autostrada per il sottomano di Rotondo ecco Rotondo forse è stato ancora poco coinvolto dall'inizio del match potrebbe essere la strada giusta visto che comunque domina letteralmente quanto a centimetri sotto canestro direi che potrebbe essere la via da perseguire nel frattempo Pignati riesce a recuperare palla Ferri si lancia in contropiede cerca in angolo Sebastian Vico palla che viene fatta girare per via esterne poi sotto per Pedersini che va a prendersi il pitturato scarica per Pignati il ferro gli dice ancora di no mani ancora troppo bagnate per Pignati poi la palla rimane lì e ci sarà si c'era stato anche rimbalzi in attacco di Rotondo che però mi è sembrato abbastanza indeciso dopo aver catturato la sfera messo palla a terra secondo me è stato un errore doveva subito alzarsi sfruttando appunto la maggiore altezza rispetto al diretto avversario per depositare alla fine ha dato una sorta di sottomano rovesciato che ha preso solo il tabellone e poi c'è stato il fallo della sformazione forlivese dall'altra parte si butta dentro ma va a finire nella tonnara Giacomelli la palla ancora presa però dai compagni di squadra c'è un fallo mentre Giacomelli ce l'ha con qualcuno non so con chi onestamente comunque un fallo di Rotondo che manda in lunetta la squadra a nero arancio e c'è il primo cambio da parte di coach Panza entra Gatti che è Niccolò Gatti specialista del tiro dalla lunga distanza 40% nel tiro pesante per lui ed esce Walter Santarossa dentro anche Arrigoni per Rotondo vuole dare un po' più di verve all'attacco bianco-rosso coach Garelli nel frattempo è buono il primo dei due tiri liberi anche il secondo sempre per Zucca che sta tenendo alto l'onore della squadra piemontese palla nel frattempo già dall'altra parte del campo con Vico penetra scarica poi palla che arriva nelle mani di Pignatti si rifà vedere Vico riceve un ottimo passaggio poi però sbaglia il sottomano rovesciato in transizione il tentativo da tre punti errato sbagliato per Borgossese Arrigoni si iscrive subito al match raccogliendo il suo primo rimbalzo palla in attacco per Forlì polveri bagnati di Vico polveri bagnati da tre punti anche per Borgossese una partita che ancora non si accende difesa però molto molto intensa da parte dei giocatori piemontesi ora però c'è la possibilità per l'unieuro di girare bene il pallone alla fine in due tentativi riesce a trovare la via del canestro Riccardo Pedersini che ricordiamolo è il miglior tiratore per percentuale dal campo dell'intero campionato è a quota 4 Forlì a 11 contro gli 8 della formazione avversaria 3 minuti e 6 secondi da giocare difesa sempre individuale per Gigi Garelli buona partenza di Giacomelli poi dopo la palla quasi persa anzi vediamo qual è l'interpretazione arbitrale no non è in frazione di campo c'è un fallo di Arrigoni commesso nel dare la caccia alla sfera forse troppa foga da parte del giocatore di Forlì che da dietro ha provato a singere l'avversario nel tentativo di rubargli palla poteva forse usare un po' più di cautela visto che tanto l'avversario poi la male non avrebbe potuto fare fatto sta ne è nata l'azione fallosa non si è ancora in bonus dal prossimo fallo dal prossimo fallo di Forlì Borgo Sesia potrà accedere al tiro dalla lunetta mentre sono due i falli commessi di squadra dai formazioni dai giocatori della formazione nero-arancio si va ancora sotto da Zucca marcato dal pari numero ovvero il numero 16 Pignatti Pignatti tiene Zucca però trova l'angolo giusto per la solita conclusione in gancio secondo ferro per lui rimbarzo catturato da Ferri e poi dopo il tentativo di percussione con ennesimo errore di uno Forlì che non si accende proprio oggi in attacco più fatica del solito c'è però il recupero difensivo di Sebastian Vico che corre e subisce il fallo in transizione fallo tattico questo se ce n'è uno da parte del numero 11 Nicolo Gatti se non sbaglio esatto e non saranno tiri liberi ma semplice rimessa ad arterale per l'Uni Euro con Vico che va a cedere palla a Ferri poi si va a posizionare nell'angolo destro dell'attacco Forlivese Pignatti dalla punta ancora una volta non trova la via del canestro palla che viene lasciata scorrere fuori dal campo per una comoda rimessa per Borgosesia Forlì come dicevi tu Enrico si deve ancora accendere direi che dal punto di vista dell'approccio ha brillato veramente pochissimo questa sera l'Uni Euro di Garelli attenzione ora c'è la tripla dell'aggancio e la segna proprio lo specialista di cui avevamo parlato non appena entrato in campo ovvero Nicolo Gatti 11 a 11 e mancano un minuto e 45 alla fine del primo quarto gli Ultras si fanno sentire a incitare una squadra che in questo momento è in difficoltà ma a toglierla dagli impicci ci pensa proprio Riccardo Pedersini sinora obiettivamente Massimo il migliore in casa Biancorossa sicuramente il migliore in campo fino adesso Pedersini lui che la via del canestro la trova con estrema facilità in questo campionato come dicevi Tapp è primo in percentuali nel tiro dal campo primo anche nel tiro da due quindi tiro da due e tiro da due più tiro da tre il miglior tiratore del campionato e addirittura al quarto posto di questa particolare classifica Arrigoni quindi direi che da questo punto di vista Forlì forse proprio su loro due che deve cercare di lavorare per cercare di piazzare un break importante contro Borgossesia che lo ricordiamo priva di tre giocatori di cui uno importantissimo mentre continua a fare sciocchezze Forlì nel fattispecie Bonaccini il fallo sul canestro avversario quindi potenziale azione da tre punti e potenziale nuovo pareggio nel punteggio allora il numero nove Giovara ex diciamo così Piemontese Doc avendo giocato anche in quel di Casale Monferrato effettivamente va a segnare il 14 pari con Bonaccini che prova ad impostare la manovra offensiva per Forlì che si trova a dovere fronteggiare gli avversari e a non trovare troppo spazio all'interno dell'area dove si tuffa Vico e va a conquistare un fallo importante perché dovrà andare in lunetta in lunetta Vico che cerca di caricarsi un po' la squadra sulle spalle con queste percussioni dall'altra parte l'errore difensivo di Bonaccini ma secondo me errore anche precedente sono troppe le ricezioni profonde nel cuore dell'area pitturata che Forlì sta concedendo ai lunghi di Borgossesi ha obiettivamente qualcosa da rivedere non c'è solo in attacco ma anche diciamo sulla capacità di sporcare le trame di gioco avversarie anche dunque difensivamente intanto due su due di Sebastian Vico cinque punti personali ne ha sette invece Riccardo Pedertini che è il miglior marcatore bianco-rosso ultimo minuto di gioco del primo quarto ancora l'attacco dei Gessi Valsesi palla con nelle mani di Quartuccio va dentro appoggia sbaglia il rimbalzo di Bonaccini si va da Vico ancora Vico a provare la percussione gran palla per Pignatti un no-look pass davvero degno di nota di Vico eh sì bella azione in attacco chissà che questa non sia l'azione che sveglia un po' i ragazzi di Garelli per quanto riguarda in attacco come dicevi tu invece in difesa hanno concesso veramente tanto e meno male che Borgosesia non stia tirando con percentuali diciamo così dignitose perché altrimenti Forlì si troverebbe nella clamorosa posizione di dovere inseguire nel frattempo Paolin in buca due punti belli e graziosi 18 a 16 sul finire di primo quarto con Vico che si alza c'era anche a mio avviso il fallo si è preso la manata in faccia quanto sta che gli arbitri non fischiano 20 a 16 questo è il risultato del primo quarto esatto noi ci risentiamo tra qualche istante rimanete con noi abbiamo già concesso 4-5 rimbatti d'attacco loro un po' troppi eh ma tanti tiri guarda quanto hanno tirato se adesso qui non so grandissimo grandissimo vale così rientriamo rientriamo in telecronaca mentre nell'aere del palafiera riecheggia ancora riecheggiano ancora le note della canzone natalizia di Elio e le storie tese che facendoci molto felici è stata passata eh si fandomi felice leggo la targhezza dentro l'ascensore vabbè bravo bravo insomma Elio gli deve molte cose a Elio le storie tese via va eh no nel frattempo facendo una piccola considerazione può sembrare abbastanza particolare trovare Jesse Valsesia a solo 4 punti di distanza da Forlì effettivamente poi dopo si va a vedere quello che è un po' il ruolino di marcia di Borgosesia nel corso di questo campionato insomma si è tolto diverse soddisfazioni tra cui sconfiggere Sant'Arcangelo e Cento voglio dire evidentemente qualcosina Zanno ecco fermo restando che è chiaro 20 a 16 frutto molto dell'approccio sbagliato di Forlì ci sono anche 5 rimbassi offensivi della formazione piemontese che in effetti è stata lo vedete anche in questa prima azione del secondo quarto molto pericolosa in avvicinamento al canestro e dentro l'area Forlì non riesce a fermare questa propensione diciamo della formazione ospiti che ora trova il canestro con Santa Rossa del meno 2 e insomma Varsesia fa male fa male nell'area pitturata intanto ancora il palleggio resta il tiro e anche Bonaccini imita Vico in precedenza trova un bel canestro buono canestro di Bonaccini via invece all'azione offensiva per quanto concerne Borgossesia vediamo Forlì che prova ad approcciare una zona il tiro chiamato da fuori è sbagliato per Borgossesia il contropiede tutto firmato da Sebastian Vico che subisce il fallo di Paulin se non sbaglio esatto Vico si sta mettendo in proprio in questa partita capito che insomma c'è bisogno che lui si carichi le squadre sulle spalle è un momento che forse ancora non avevamo visto in questo campionato in questi termini nel senso un giocatore che capisce che insomma o fa o dà la scossa a livello personale oppure oppure comincia a diventare non dico complicata ma forse un po' meno scontata del previsto esatto esatto nel frattempo è buona l'azione di Pignati che si è andato a conquistare un fallo d'esperienza e andrà dalla lunetta per due tiri liberi tanto ci portano le statistiche del primo quarto e lo dicevamo pur tirando mare dal campo Valsesi a 30% complessivo ci sono questi 15 rimbarsi contro i 12 di Forlì c'è una buonissima partita di Paulina che ha 6 punti e sta facendo davvero bene e Pignati intanto lo raggiunge perché metta segno adesso i due liberi che lo portano anche egli a quota 6 intanto vediamo la palla in angolo il tentativo proprio di Paulin contro Vico Paulin è chiuso deve riaprire lo fa male la palla in qualche modo però gli ritorna nelle mani attacco complicato di Valsesia che infatti va a tirare un piccione viaggiatore e c'è l'ultimo tocco di Giovara e la palla a fondo campo per la rimessa bianco-rossa dando a Cesare quel che è di Cesare l'attacco di Borgosesia sicuramente complicato ma è ampiamente merito anche della difesa di Paulin che sembra aver alzato i ritmi almeno in questa ultimazione difensiva è così 24-18 adesso più 6 è il primo vantaggio dopo quell'iniziale del 6-0 di una certa consistenza Forlì sbaglia ancora però si lotta ora sulle palle vaganti e si guadagna un extra possesso con Pedersini che è andato a contendere questo pallone vagante bene è aumentato il volume giustamente come dicevi tu Massimo e si è la strada da percorrere è chiaro che bisogna anche fare tesoro a fine partita di quanto non è andata in questa perché dubito onestamente che si presenteranno in campo con questa intensità che hanno avuto all'inizio del match la prossima domenica casalinga contro Sant'Arcangelo perché se scendi in campo così Sant'Arcangelo te la trovi a più venti nel giro di 5 minuti Sant'Arcangelo obiettivamente è una squadra che gioca sempre tu l'hai visti poi dopo anche dal vivo nel derby con Rimini con una grandissima tenacia un ritmo elevatissimo e insomma è davvero una brutta gatta da pelare vedremo Forlì deve portare a casa intanto questi due punti fallo di Pedersini che rimane fermo sul penetrazione di Edoardo Giovara bella faccia tosta di questi giovani in maglia nero arancio non ha paura di niente assolutamente no non sarebbero altrimenti a metà classifica si troverebbero in fondo con i compagni di Regione i compagni piemontesi di Torino in realtà questi vendono cara la pelle non sono venuti a Forlì per fare la figura dei ragazzi sconfitti in partenza giustamente se la vogliono giocare bello spirito è veramente da apprezzare lo spirito con cui è scesa in campo Borgossesi a questa sera qui al Palafiera nella tana della prima in classifica che nel frattempo gufa il derby toscano per vedere se si riesce ad andare a giocare anche la finale di Coppa Italia le final forti Coppa Italia di Rimini a marzo esatto derby tra Cecina e Piombino derby complicato per Cecina anche se casalingo intanto perde una brutta palla Bonazzini dopo l'uno su due in lunetta di Giovara però c'è la restituzione del favore perché il fallo è commesso in attacco se non sbaglio da Gatti anzi no Paulin per lui è il secondo fallo c'è qualche tifoso sparuto di Borgossese dietro alle nostre spalle che commenta in modo non certo conforme alla decisione arbitrale appunto quanto appena accaduto sul parquet intanto c'è la pressione alta da parte di Giacomelli Bonazzini però ora varca tranquillamente la metà campo si fa vedere Arrigoni la scambia con Iattoni che è entrato in campo anche Iatto a palla per la penetrazione fino al ferro di Vico e Vico insomma con queste penetrazioni ha capito qual è la strada maestra intanto altro fallo di Iattoni potenziale gioco da tre punti molto ben eseguito da parte di Edoardo Giovara che sta sta accendendosi è entrato dalla panchina e ha avuto subito un ottimo impatto time out chiamato da Garelli perché Forlì ancora Massimo non ha ancora ingranato Iattoni messo in campo Iattoni ovviamente uno dei suoi più grossi difetti è l'attitudine alla difesa obiettivamente qui si è visto tutto con il canestro ed il tiro libero il fallo quindi la potenziale la potenziale azione da tre punti concessa all'avversario nel frattempo non brilla particolarmente Forlì non brilla particolarmente nemmeno Cecina 8 e 11 dal termine del primo tempo 21 a 22 Cecina in casa con Piombino diciamo così al momento se la deve sudare tutta eh sì assolutamente ricordiamo che sia Forlì che Cecina devono ancora sfidare Sant'Arcangelo che è la grande rivelazione di questo campionato almeno per il girone d'andata i toscani lo faranno alla penultima giornata a Sant'Arcangelo Forlì invece ospiterà ai Clementini l'ultimo turno del girone d'andata qui nell'impianto di via punta di ferro e quindi Sant'Arcangelo un po' arbitro di questa corsa alle Final Four sarà arbitro anche della corsa al miglior posizionamento possibile a girone di ritorno ovviamente verso la fine del girone di ritorno della griglia playoff che è una che è fondamentale per le ambizioni di entrambi intanto Giovara completa il gioco da tre punti e porta i suoi a quota 22 contro i 26 di Forlì e beh suppongo che Zizigarelli non sia molto contento al momento lo vediamo fermo impietrito a bordo campo a vedere questo innesimo errore al tiro dalla distanza dei suoi ragazzi e la possibilità invece di accorzare ulteriormente per Borgosesia si intruppano nell'area nella tonnara dell'area ne nasce il rimbalzo per Arrigoni che può cedere palla agevolmente a Bonaccini che dall'altra parte va ad un corpo a corpo costringendo Giovara al fallo secondo fallo per Giovara era un accoppiamento favorevole al numero 17 Forlivese Giovara decisamente giocatore più lento del razente play ex latina infatti l'ha sfruttata al meglio questa opportunità dall'altra parte Vico grande continuità questa è una tripla la prima tripla se non sbaglio di Forlì in questo match siamo già a 12 assolutamente prima tripla del match per una Forlì che obiettivamente da 3 poco tira poco prendendoci quindi giustamente predilige il tiro da 2 e le penetrazioni razenti come dicevi poco fa tu di Sebastian Vico proprio Sebastian Vico che va a dare palla in angolo Agliattoni gli ritorna per un agevole tiro ottimo vantaggio conquistato da Agliattoni non marcato si è preso il tiro dalla lunga l'ha messo dentro per un 32 a 22 più 10 primo vantaggio in doppia cifra di Forlì della partita ottimo questa tripla di Agliattoni che in attacco superisce nettamente i limiti che ha dal punto di vista difensivo primo canestro per lui ma risponde con un altro tiro pesante Quartuccio primo canestro Quartuccio per lui in questo match dunque dal più 10 si ritorna più 7 più 10 è il massimo vantaggio bianco rosso con le due tripli in successione di Vico e di Agliattoni Vico va forse a subire un fallo gli abiti non sanzionano Vico prende la tripla e la segna facciamo così il fallo c'era ma meglio che non l'abbia fischiato decisamente meglio così esatto Vico insomma 15 punti in 15 minuti giù il cappello davanti all'argentino e come dicevi te ha cercato di caricarsi la squadra sulle spalle Garelli un po' più tranquillo diciamo così adesso in panchino ovviamente cerca di scuotere un Pignatti che al momento vediamo un po' assente nel corso di questi primi minuti di questo primo tempo di match e che dire Vico come dicevi te ha capito di doversi caricare sulle spalle la squadra e sta portando in porto un buon break per Forlì ha risposto da par suo alla tripla avversaria ristabilendo le distanze sui 10 punti di vantaggio per Forlì 35-25 quando siamo a metà del secondo quarto di gioco grandi cifre di Sebastian Vico finora 15 punti con 3 su 6 da 2 2 su 4 da 3 3 su 4 liberi 2 rimbalzi un assist e 5 palli subiti davvero una prestazione da leader assoluto della formazione bianco-rossa che di leader emotivi ne ha uno che oggi non giocherà ovvero quel Rodolfo Rombaldoni che è un giocatore invece in grande crescita nel peso che ha all'interno della squadra l'ha dimostrato soprattutto nelle derby del Flaminio con Rime intanto molto aggressivo pure troppo Bonaccini su Quartuccio va a spendere un fallo che però non manda in lunetta gli avversari è appena il terzo fallo di squadra in questo secondo quarto da parte di Forlì la rimessa effettuata da Giacomelli Quartuccio ancora Giacomelli Giacomelli va in step back per la tripla il rimbalzo di Aregoni c'è un fischio però da parte degli arbitri fallo di Gliattoni Gliattoni spinta su Giovara rimbalzo esatto secondo fallo di Gliattoni non c'è non ci sono tiri liberi perché è il quarto fallo di squadra sarà rimessa dal fondo per Borgosese che ha 14 secondi sul cronometro dei 24 per pervenire ad una soluzione offensiva che prova a prendersela da tre il rimbalzo non viene considerato perché è preceduto dall'azione fallosa di Giovara quindi ci saranno invece tiri liberi per Forlì che andrà in lunetta con Sebastian Bico se non erro esatto questa volta la spinta è di Giovara non subita da Giovara e quindi la formazione forlìvese non va in lunetta si va in rimesse laterali intanto è entrato Mazzola al posto di Giovara Mazzola era già entrato in precedenza anche egli ragazzo se non erro molto molto giovane andiamo a vedere subito la sua scheda perché permettetemi non sono preparato su dieci giocatori di Borgosesi Giacomo Mazzola io invece sono molto preparato più dell'arbitro sul regolamento è un under 18 io invece sono molto più preparato dell'arbitro sul regolamento è lunetta giustamente come dicevi tu come dicevo io ci saranno tutti i riliberi per Sebastian Bico che può così mettere in saccoccia altri punti comodi comodi nel frattempo si comincia a spazientire anche un particolarmente silente palafiera a parte qualche corretto della curva che vuol provare a svegliare più che i tifosi i giocatori in campo buono nel frattempo il primo tiro libero di Sebastian Bico per il primo massimo vantaggio del match primo più 11 di Forlì 36 a 25 diventa subito più 12 37 a 25 4 e 47 dal termine del primo tempo massimo vantaggio come dicevi giustamente 17 punti per Sebastian Bico a livello di pubblico forse forse siamo al minimo stagionale complici lo shopping natalizio mi sembra che insomma oggi eh sì devo dire che c'era molta gente al centro commerciale qui a fianco all'impianto ho avvistato anche un gigioneggiante Giroldi che si concentrava prima della partita di Borgossesia che comunque ha ancora qualcosa da dire perché 37 a 28 insomma tornano 9 quindi sotto la doppia cifra di vantaggio i punti di vantaggio di Forlì insomma c'è ancora da lavorare per la squadra si prova Pignatti dalla media finalmente forse riesce ad iscriversi ufficialmente al match vediamo se è obiettivamente questa l'azione che lo fa entrare definitivamente nel match 39 a 28 con Borgossesia che si può giovare del fallo in difesa di Arrigoni Arrigoni che invece in attacco insolitamente questa sera non si è ancora iscritto a tabellino diciamo così è un giocatore che in realtà ci mette pochissimo a accendersi non appena entra in campo dalla panchina oggi invece dal punto di vista della produzione offensiva siamo ancora fermi al palo però Arrigoni 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 ha dato una mano notevole intanto due su due di Nicolo Gatti e sono cinque per lui cambia ancora esce Santa Rossa il giocatore classe 1978 che obiettivamente rispetto ai giovani di coach Lorenzo Panza è oggi una marcia indietro perché lui proprio in partita non è entrato questa sera intanto bella palla di Pignatti e viene terminato Arrigoni ecco Arrigoni adesso Andrais che mette il proprio nome referto perché va in lunetta con due tiri liberi sono in telepatica teleconferenza con Pignatti sei in teleconnessione con me dai palla Arrigoni dai palla Arrigoni nel frattempo però mi è piaciuto ovviamente ha fatto fallo ma mi è piaciuto veramente l'atteggiamento difensivo di Giacomelli se non sbaglio si ha commesso il fallo bello atteggiamento diciamo così un bel fallo terminale di quelli che mi piace sempre vedere a difesa del proprio canestro nel in campo insomma un bel atteggiamento difensivo 41-30 più 11 per l'Uni Euro a 3-34 dall'intervallo ancora Giacomelli che stilisticamente un gran bel giocatore vedete gran movimento sul perno poi però va a tirare una palla che quasi scavalcava la traversa ancora lui riceve sbaglia ancora ecco diciamo più bello a vedere che a livello di conclusioni Giacomelli la rimessa è per l'Uni Euro si stanno cercando nel frattempo i bambini per asciugare il parquet sotto intanto a proposito di bambini è entrato nelle fila piemontese se non sveglio con numero 2 Berardi no è Massola scusa numero 8 Massola numero 8 Massola ecco era Massola veramente giovani ragazzi veramente molto 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 giovani fa anche piacere chiaramente assolutamente vedere vedere giovani scendere in campo vediamo adesso con con che impatto nel match sicuramente un tema interessante da seguire in questa partita che nel frattempo è giunta 3.18 dal termine del primo tempo con Forlì sul più 11 e Ungarelli che probabilmente negli spogliatoi qualcosina ce l'avrà da dire i suoi tanto c'è Ferri che va a servire il rientrato Pedersini sotto canestro è rimasto Iattoni Iattoni va a trovare un bel appoggio quinto punto per Iattoni che è il giocatore di cui si è parlato e ci continuerà a parlare per tutte queste festività natalizie parte non parte intanto lui si fa vedere e si fa vedere bene quest'oggi davvero con una bella presenza sul parquet intanto eccolo Arrigoni eccolo che arriva ancora a trovare il fallo della difesa fallo di Zucca è una Forlì che sta un po' in termine pugilistico lavorando ai fianchi dell'avversario trovandosi di fronte una partita forse più dura di quella che poteva immaginare ma se la sta complicando tutta tutta lei poi in funzione dell'approccio che ha avuto però in questo momento insomma sta in qualche modo lavorandosi al fianco dell'avversario continua a guadagnare falli e tiri liberi importantissimi perché insomma grazie probabilmente tiri liberi adesso le statistiche non le ho sotto ma molti tiri liberi tirati da Forlì buona parte del solco scavato fino a questo momento il più 15 che arriva proprio in questo momento come massimo vantaggio buona parte è frutto proprio del tiro dalla luneta per la squadra per la squadra di Gigi Garelli sono 13 sono 13 liberi tirati da Forlì e ne ha sbagliato uno solo con Vico fino adesso quindi ottime anche le percentuali 4 punti di Arrigoni tutti dalla lunetta ora la difesa è decisamente più intensa in questo secondo quarto da parte dei Biancorossi tira lo scadere Ferro e rimbalzo lungo di Pedersini si prova a galoppare con Ferri che la dà indietro bel movimento contro l'Under 18 Mazzola insomma in questo caso portato decisamente sui banchi di scuola esatto si si professor Pedersini professor Pedersini insegna pallacanestro al giovane universitario nel frattempo errore dall'arco dei 6.75 per la formazione ospite dall'altra parte un tiro liberissimo preso proprio da Pedersini ma sbagliato sotto canestro Lotta Gliattoni che sbaglia il tiro in allontanamento concedendo il rimbalzo e della transizione a a Borgosesia che però non trova modo di entrare nel pitturato non c'è strada sono 10 secondi che rimangono a Borgosesia per cercare una soluzione offensiva terzo fallo se non erro di Gliattoni che si sta giocando un'occasione importante per mettersi in moto fallo secondo me speso molto male da Gliattoni siamo sinceri era una percussione lungo linea di fondo che non aveva un gran futuro è andato a spendere un fallo anche abbastanza evidente nonostante lui se ne lamenti ora esce e rientra al suo posto Vico peccato peccato perché Gliattoni dentro questa partita finora c'era e come intanto i liberi il primo è sbagliato c'era e soprattutto ripeto lo toglie fuori dal match un match che sul più 17 poteva essere come abbiamo già visto qui sui legni del palafiera un match per mettersi in mostra divertirsi anche per lui che fa tanta panchina e insomma un fallo non troppo intelligente e no intanto Vico ha ricevuto va via ancora grande scarico nuovamente per Pignati qui sfugge la palla dalle mani prova a tenerla viva a Pedersini poi alla fine c'è un tocco di piede e dunque la palla con la rimessa in gioco a cronometro fermo per la Gessi Valsesia di Borgosesia peccato era un altro assist al bacio quello di Vico per Luca Pignati intanto 52 secondi al termine del match ancora con Quartuccio che va da Giacomelli Giacomelli cerca Gatti che riceve spalla canestro prova ora a giocarsi l'uno contro uno con Arrigoni è costretto a riaprire fuori per il tiro pesante che va molto corto il ribasso però di Mazzola che la rigioca ancora per Nicolo Gatti Gatti non sa bene a chi affidarsi lo fa adesso a Quartuccio che ha polveri decisamente bagnate al tiro così come Giacomelli ancora Gatti 3 secondi 2 secondi per la conclusione va al tiro allo scadere proprio Giacomelli niente ancora un errore per Giacomelli dovremmo essere 1 su 10 per Giacomelli in questo match e meno male che era un giocatore che stilisticamente mi piaceva non parlo più intanto ultimi 9 secondi tengo la linea Frambo per questo finale con Vico che ci gioca l'uno contro uno poi da uno scarico fantastico per Pedersini che va ad appoggiare al tabellone e a canestro proprio in conclusione toccando il massimo vantaggio e nonostante le difficoltà iniziali Massimo siamo a più 19 esatto mi verrebbe da dire quanto saremmo se fossero scesi in campo con la giusta mentalità con il giusto approccio sul quale comunque ci sarà qualcosa da dire gentili telespettatori ben ritrovati secondo tempo di Palacanese 2.015 Forlì Jesse Valsesia si riparte dal più 19 per i biancorossi romagnoli 49 a 30 dopo i primi 20 minuti di gioco e dopo un primo quarto forse più stentato del previsto c'è stata diciamo la netta presa in possesso delle chiavi del match da parte dei ragazzi di Gigi Garelli quella di Forlì Massimo è anche l'unica partita che sembra totalmente indirizzata di un turno che invece vede sugli altri campi alla fine del primo tempo match davvero davvero sul filo più del previsto eh sì più del previsto Rimini in casa avanti solo di 1 30-29 contro San Mignato clamoroso oserei dire il primo tempo di Sant'Arcangelo che ha treccato ha concesso 47 punti ed è avanti solo di 2 47-49 partita tutta da giocare anche quella di Raggi Solari in casa con Livorno in questo momento ferma sul 36-34 e la partita che più interessa da vicino Forlì ovvero Cecina Piombino Piombino sul 29-31 addirittura per gli ospiti quindi Piombino avanti di 2 nei confronti di Cecina al termine del primo tempo insomma il risultato che in questo momento canalizza tutto l'interesse del Palafiera in ottica Coppa Italia intanto si è ripartiti con il primo canestro per Paulin due palle perse consecutive per l'attacco dell'Unieuro che al termine dei primi 20 minuti di gioco aveva il 52% dal campo contro il misero 27% di Borgossese Forlì tira bene anche da 3 tira poco 6 volte ma col 50% e poi c'è il 92% ai liberi 12 su 13 24 rimbalzi a 20 rimessa a posto anche la questione Carambole dopo un primo tempo in primo quarto scusatemi in cui Forlì era sotto 15 a 12 intanto ricezione profonda ma un errore quasi doppio errore poi alla fine Santa Rossa riesce con l'aiuto del Ferro a mettere a bersaglio 4 a 0 in avvio di ripresa da parte della formazione piemontese Forlì che è rientrata ancora col freno a mano tirato però a togliere il freno a mano ci pensa l'NVP assoluto di questo match ovvero Sebastian Vico siamo già a 19 eh sì 19 partita chiaramente nel segno di Vico partita che Forlì nella quale Forlì deve ringraziare le polvere decisamente bagnate degli avversari nel frattempo in cappa in un fallo difensivo a Rigoni forse corregimi se sbaglio è al terzo fallo il mezzo lungo Forlivese che va a concedere la rimessa laterale a Borgosesia eh sì è il terzo fallo proprio di Arrigoni come tre ne ha Iattoni nelle fila bianco-rosse sono gli unici due giocatori che hanno problemi di falli a parte Zucca anche gli tre falli nelle fila piemontese intanto un altro fallo quarto fallo di Arrigoni forse una sciocchezza questa per Arrigoni che si arrabbia probabilmente più con se stesso che con gli arbitri prova a dire qualcosa ma obiettivamente ci sembra che ci sia veramente molto poco da dire se non accusarsi del fallo il proprio quarto fallo Biondolino va a prendere il suo perdone Iattoni va a prendere il suo posto in campo già Iattoni anche lui gravato come dice Teppocanzi di tre falli ma soprattutto Iattoni dato molto 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 vicino a Rimini nelle prossime settimane e vedremo cosa succederà con il mercato che a gennaio inizierà davvero entrare nel vivo intanto gira la palla perimetralmente Borgosesia con un tiro comodo preso e questa volta imbucato da parte di Paulin che sta facendo davvero davvero una bella figura oggi anche con questo canestro pesante siamo in doppia cifra 11 punti per lui 51 a 37 prova a rimanere viva Borgosesia che è uscita molto meglio dall'intervallo rispetto ai Biancorossi che ci riprovano ancora con Vico il tiro questa volta danza sui due ferri rimbalzo di Santa Rossa ci prova anche in transizione con un'autostrada lasciata colpevolmente e beh a quartuccio e deve chiamare time out Garelli giustamente perché insomma non ci siamo si è obbligato obbligato Garelli a chiamare il time out se l'approccio alla partita è stato completamente sbagliato da parte dell'unie euro di Gigi Garelli ancora peggio se è possibile Forri sta facendo in questo secondo tempo 51 a 39 il risultato partiale a 741 dal termine di questo terzo quarto ecco molto da dire sicuramente ai propri ragazzi per coach Garelli ragazzi che stanno sbagliando molto in difesa si stanno aggrappando al solo Vico in attacco c'è bisogno di movimentare qualcosina purtroppo pesano sicuramente tanto i quattro falli di Arrigoni assolutamente c'è da rivedere senz'altro qualcosa sia in difesa che in attacco vediamo Garelli che disegna sulla sua lavagna mentre Borgossese ritrova fiducia ritrova la convinzione di poter senz'altro non dico forse impensierire fino al punto da mettere in discussione due punti ma restando viva e vitale fino alla fine in questa partita in casa della capolista dunque una Borgossese che già c'era piaciuta in avvio di partita e continua a piacerci con i suoi giovani in questo avvio di secondo tempo ora Ferri a ricevere la rimessa a valcare la metà campo in questo momento vediamo come sarà stato il disegno dello schema che porta Pignatti a realizzare dai 6 metri con un tiro con spazio va in doppia cifra anche Luca Pignatti 10 per lui però dall'altra parte c'è il canestro da 3 punti di Gatti e insomma insomma punticino dopo punticino eh sì Borgossese si comincia a riportarsi sotto meno 11 a 7 minuti dalla fine del del terzo quarto Gliattoni ora palla per Sebastian Vico si fa vedere fuori dai blocchi Ferri che si arresta e tira con il piede sull'arco dei 6 75 il tiro è da 2 punti però quello che più importa è che il tiro va dentro 13 punti di vantaggio 55 42 per Forlì che ora però deve ringhiare in difesa Ferri su quartuccio si va da Gatti Gatti si butta dentro ancora contro la difesa trova il quarto fallo se non sbaglio di Riccardo Gliattoni vediamo se anche questa è l'interpretazione esatto Gliattoni ora a colloquio con anzi è Ferri scusatemi a colloquio con la panchina bianco-rossa Gatti con due tiri liberi vedremo se sarà il momento di ripresentare sul parquet Paolo Rotondo che non è più entrato dopo vediamo dopo i primi 5 minuti di gara non sappiamo se per un problema fisico o altro per scelta tecnica intanto fa 0 su 2 Gatti dalla linea di tiro libero un doppio errore pesante nell'economia di questo terzo quarto per Borgosesia intanto non fa cambi Gigi Garelli resta con il quintetto con Gliattoni sul terreno di gioco Pedertini spalla canestro per Vico Vico ancora un gran pallone per Pedertini Vico versione assistman veramente strepitoso come direbbe il buon Mughini come gioca Vico vero? Caro Paso Vico sicuramente MVP fin discusso del 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 dopo tutto è questo qui insomma penetrazioni passaggi no look assist a Gogo e quando serve anche la tripla che ti può scacciare dalla crisi nel match intanto la sfrontatezza però di Borgosesia porta Paulin a guadagnarci altri due tiri liberi a gravare di falli la difesa bianco-rossa che è già a quota 4 in questo momento nonostante 15 punti di vantaggio che restano tali perché Paulin sbaglia l'ennesimo tiro libero siamo già a tre errori consecutivi dall'arco dalla linea della carità per Borgosesia Paulin invece mette il suo secondo tiro libero a disposizione e palla in mano a Forlì che varga la metà campo con Michele Ferri che va a cedere a Pignati si fa vedere riceve palla Pedersini in post basso può arrivare fino in fondo lo fa con un tiro morbidissimo signore e signori questo si chiama Pedersini mamma mia che tecnica Pedersini un grandissimo canestro dal punto di vista stilistico davvero mi manda in estasi questo canestro di Pedersini dall'altra parte però ancora la tripla che va corta il rimbalzo conquistato dall'Uni Euro mani ora palli mano a Ferri Ferri marcato da Quartuccio eh sì probabilmente Ferri molto giustamente ha deciso di non affrettare visto che comunque sia in vantaggio si può anche ragionare e da far suo si prende la tripla che è in buca ha rifiutato letteralmente la chiamata di Pignatti in contropiede per due punti facili facili ha gestito l'azione lui si è presa la tripla e l'ha messa dentro 62-43 a 4-56 esatto e fuori ritrova i 15 punti con cui aveva chiuso al termine del secondo quarto li ritrova con Pedersini e Ferri davvero sugli scudi nonostante la buona tenacia di Borgosezia dunque non è valsa il recupero sperato ai giocatori di Cospansa ora proprio Ferri con il tiro sbagliato da Pedersini si lotta a rimbalzo Ghiattoni vorrebbe la rimessa in attacco invece l'ultimo tocco è dei Biancorossi la rimessa sarà affidata a Nicolo Gatti per Quartuccio e non rientra Rotondo dunque si sta con Ghiattoni in campo vedremo se a quanto pare possa essere stato anche un problema fisico quello del pivot siciliano perché dopo i primi 5 minuti davvero non l'abbiamo più visto sul parquet intanto Giacomelli cambia ancora per Santa Rossa Santa Rossa contro Pignatti c'è il fallo di Pignatti Santa Rossa con tanta esperienza lo fa vedere questo fallo però il tocco obiettivamente sul suo braccio c'è stato è solo il primo fallo di Luca Pignatti ma manda in lunetta il veterano di Coach Panza giocatore che però ricordiamolo solo due stagioni fa contribuì alla promozione di Trento dalla 2 alla 1 quindi tutt'altro che un pensionato anche se oggi una partita non forse all'altezza della sua fama sbaglia anche il tiro libero e tanti errori dalla lunetta per Borgosesia eh sì tanti errori lo dicevamo prima dalla lunetta Santa Rossa ovviamente fa il suo lavoro di Chioccia tornato dai tanti giovani di Belle Speranze eh di Borgosesia fa 1 su 2 ai liberi eh Santa Rossa e palla ancora nelle mani di Ferri che va a orchestrare la manovra offensiva per l'unieuro di Gigi Garelli eh prova a vedere se riesce se riesce a prendersi il blocco di Pignatti che in realtà non arriva ciò che arriva invece è un passaggio sconsiderato e completamente sbagliato di Ferri però dall'altra parte Vico si va a prendere palla poi arriva col brassino sul ferro non la mette dentro in contropiede si scalda il palafiera perché viene sanzionato il fallo da Vico si scalda insieme al palafiera anche Gigi Garelli ma il fallo onestamente poteva anche starci eh sì io ero ancora qui che sacramentavo sull'errore di Sebastian Vico onestamente non l'ho visto mi fido della tua interpretazione Massimo sta di fatto che il pubblico la prende malissimo ora va a Santa Rossa in lunetta con due tiri liberi due tiri liberi che arrivano nel momento di massima diciamo presenza nel match del pubblico di Fede Bianco-Rossa c'è ancora la protesta vibrante di Garelli in panchina rischio tecnico Garelli che è ben dentro il campo a discutere con gli arbitri intanto Vico è uscito al suo posto è entrato Bonazzini vediamo anche gli Ultras che chiamano il palazzo alla massima diciamo presenza vocale ad alzare i decibel il tecnico c'è stato perché va in lunetta senza rimbalzo Santa Rossa lo mette mette il primo va a scagliare il secondo sì sì il tecnico alla panchina alla fine è arrivato due su due e ora ci saranno i tiri liberi esatto per il fallo sanzionato a Sebastian Vico nel frattempo partita accesissima in quel di Cecina con l'ovazione del pubblico che saluta l'errore dalla luletta di Santa Rossa dicevamo a Cecina partita apertissima cinque minuti dalla fine del quarto Cecina trentotto Piombino trentanove notizia sicuramente positiva per Forlì che però qua se la deve giocare eh sì punteggio molto basso a Cecina intanto il tiro dalla lunga distanza corto il rimbalzo di Gliattoni allora intanto ricostruisco grazie al play by play del sito della Lega esatto il fallo di Sebastian Vico poi il tecnico alla panchina della per la per la formazione di Gigi Garelli quindi tecnico al coach di Bazzano e rientra adesso Paolo Rotondo lunghissima la sua permanenza in panchina rientra a tre minuti diciotto dalla fine del terzo quarto evidentemente non era nulla di particolare dal punto di vista fisico probabilmente l'ha lasciato riposare forse un po' troppo vedremo capiremo al termine della partita nel frattempo proprio Rotondo va a servire palla nel pitturato sotto canestro a Bonaccini che prende la caramella alla scarta e si porta a casa altri due punti tre minuti al termine del quarto 64 a 46 per Forlì che ora si deve difendere lo fa con una mezza zona mezzo uomo non si capisce bene Paolini invece capisce che è il momento di tirare in buca un canestro da due punti 64 a 48 palla in mano a Forlì c'è il fallo questa volta della difesa danni di Michele Ferri fallo di Quartuccio che si va a scusare col numero 10 in maglia bianco-rossa primo fallo solo per Quartuccio il pubblico acclama questo fallo con un'ovazione dicendo era ora in sostanza il senso dell'esplosione dell'urlo del palafiera è questo primo fallo di squadra di Borgosesa nel terzo periodo rimessa ora effettuata da Bonazzini per Michele Ferri che punta l'avversario lo lascia sul posto va in angolo molto bene per il tiro di Pedersini che non trova il canestro in basso lungo di Iattoni ancora il canestro questa volta di Pedersini Pedersini due di fila Franbo non li sbaglia Iattoni lo sa benissimo infatti lo ha servito tutto libero dall'angolo liberissimo di tirare liberissimo di realizzare poi rimbalzo ancora per Iattoni siamo già dall'altra parte palla in mano a Ferri su di lui prova a ringhiare Giovara palla che si sposa sull'altro lato del campo ancora per Pedersini che vede un pertugio prova a prenderlo poi guarda l'arbitro come per dire ma come non mi fischi fallo nel frattempo però Borgosese dall'altra parte a prendersi la stoppata Pedersini che era rimasto a terra si alza prende palla apposa altri due punti al vetro 68 a 48 più 20 per Forlì 1 e 42 sul cronometro esatto e si ritorna ora anzi si tocca il massimo vantaggio con Pedersini 68 a 48 e la partita si è accesa ora c'è davvero il clima da corrida sul terreno di gioco tiro dalla lunga distanza entra ed esce sfortunato Gatti eh sì è un po' il tema diciamo così della partita mentre Iattoni non riesce a prendere la palla l'invito di Michele Ferri poi si dispera contro la la struttura del canestro per non essere riuscito a sfruttare questa occasione in contropiede dicevamo ovviamente Borgosesia nella fattispezza dell'azione precedente ha denotato come sia vittima in questo match della diciamo così della precisione al tiro avesse tirato con altre percentuali probabilmente in questo momento staremmo raccontando un'altra partita Pedersini intanto 19 con 9 su 13 al tiro grande difesa di Forlì al limite del fallo con Ferri la palla deviata proprio dal playmaker Biancorosso ci sarà rimessa con 11 secondi a disposizione del tiro anzi no anzi no c'è cambio di possesso quindi ottima la giocata difensiva di Michele Ferri palla recuperata per l'Uni Euro ed è Ferri Massimo è cresciuto molto 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 all'interno di questo match eh sì ci voleva ci voleva lui ci voleva Ferri dall'azione che abbiamo commentato quando si è preso la responsabilità del tiro da tre si è acceso sta giostrando perde palla ovviamente però adesso vedrai che andrà a fare canestro adesso anzi no bene così comunque per il canestro e fallo vorrebbe dire da dire del solito Pedersini ottima la transizione in contropiede sulla palla recuperata dopo la persa di Ferri buona Forlì sta mettendo buona intensità prova ne sia che il 48 a 70 insomma comincia ad avere sfumature indiscutibili insomma di pietra tombale sulla partita come ovviamente giusto che sia per la differenza tecnica e tattica tra la differenza tecnica perdono tra le due formazioni sono 22 i punti di Riccardo Pedersini con il tiro libero aggiuntivo errore poi rimbassa in attacco la palla staziona lì in qualche modo trova il canestro Edoardo Giovara Giovara che non avevamo più visto protagonista rispetto al buon inizio di secondo quarto suo ora mancano nove secondi alla conclusione del quarto Forlì all'ultimo tiro Ferri fa l'americano qui c'è in frazione di passi nettissima per Paolo Rotondo che ovviamente al quale io mi sento veramente di dire molto poco è stato fuori dalla partita veramente per tanto tempo difficile difficile poi rientrare caldo e dentro al match come se si fosse giocato con continuità intanto la personalità del giovanissimo del giovanissimo Paolin che prova a mettere la tripla allo scadere ma non riesce mi piace comunque questa questa Borgosesia la personalità con cui gioca nonostante il meno 21 è veramente da applausi esatto si va al terzo riposo sul punteggio di 71 a 48 22 punti Pedersini da una parte con Vico a 19 dall'altra parte 14 punti di Paolin ci prendiamo qualche istante di sosta ma restate con noi ci ritroviamo tra pochissimo 25 euro per gli abbonati anche il partito di 4 partiti a partire ancora il 3 gennaio con San Paccano 6 gennaio con Torino 23 gennaio con Piacenza 7 febbraio contro il Contigone per le quali potrete stipulare un mini abbonamento con prezzo ridotto che è riguardo da 40 a 25 euro in partenza 70 a 40 euro Sì è andato via Sì sì Primo lo sentivo quando lo toccavi Adesso no no esatto è vero e lo fa adesso lo fa c'è un conduttore di elettricità anche riprendiamo la telecronaca ultimo quarto di Palacanese 2.015 contro Jesse Basket Varsesia 71 a 48 e ci uniamo al Buon Natale a tutto il palazzo urlato e cantato dagli Ultras Biancorossi li facciamo in anticipo gli auguri di Natale dai Massimo visto questi ultimi 10 minuti obiettivamente dal punto di vista della partita un poco da dire questa è la nostra ultima telecronaca del 2015 ricordiamo che Forri giocherà ancora una volta in quest'anno solare a Livorno e poi ci ritroveremo qui per il derby contro gli Angels Sant'Arcangelo però da parte mia da parte tua da parte di tutto Forri Basket ovviamente dillo tu tanti auguri buon Natale buone feste felice anno nuovo benissimo però non vi stiamo salutando siamo ancora qui dentro la partita siamo qui a raccontare il fallo se non erro di Pedersini nel frattempo risultati anche dagli altri campi ha sbloccato la partita Faenza in casa contro Livorno avanti 54 e 42 persistono invece stranamente i problemi di Sant'Arcangelo in quel di tre catte che moriamo dalla voglia di andare a vedere ma io no alla fine del terzo quarto 61 a 62 per gli Angels di Tassinari insomma partita che sarà tutta da analizzare al termine al suono della sirena Cecina invece Piombino 45 a 43 ma a 43 questa partita insomma da seguire come dicevamo tutta fino in fondo ancora deve terminare il terzo periodo però in quel di Cecina eh sì si deciderà proprio sul rush finale intanto tripla di Luca Pignatti mette la sua firma anche col canestro pesante in una partita fondamentalmente silenziosa alla fine Pignatti ha messo 13 punti ed è il terzo miglior marcatore dell'unieuro ora 74 a 50 siamo a più 24 non c'è proprio più partita per la pur generosa Borgosesia che va a perdere il pallone con il fallo in attacco di Giacomelli Giacomelli proprio dal punto di vista offensivo in questo match non è mai entrato 1 su 10 dal campo 0 su 4 da 2 1 su 6 da 3 ci sono appena due rimbalzi per lui invece bene bene Paolin 7 su 11 al tiro 6 su 8 da 2 1 su 3 da 3 Paolin che ha un high di 18 punti contro Faenza bissato poi contro Torino in questo campionato per il giocatore che arriva dalle giovanili della Reier Venezia ed è un giocatore obiettivamente interessante intanto ancora Giacomelli in punta prova a chiamare l'isolamento in questo momento c'è il cambio di marcatura ordinato da Garelli ci va addirittura rotondo ora c'è la possibilità di giocare spalla canestro ma con la palla persa di Borgosesia corre Galoppa Pedertini Pignatti Pignatti la rigioca con calma ovviamente sul velluto in questo momento non c'è più bisogno di spingere sull'acceleratore il più 24 insomma si può cominciare a pensare dove andare a passare il Natale 6 secondi sul cronometro dei 24 Michele Ferri dal rimbalzo si inventa un canestro che entra ed esce permettendo a Borgosesia di oltrepassare la metà campo salvo poi fermare il gioco per il fallo sanzionato a Pedertini sulla transizione del numero 9 ospite Giovara e ora serie di cambi per Gigi Garelli entra di nuovo Iattoni assieme a Sebastian Vico e vediamo se Sebastian Vico nella personale corsa con Pedertini farà il controsorpasso in questo momento Pedertini 22 punti Vico che era stato assoluto a protagonista per i primi 22-23 minuti ne ha 19 intanto altro errore in avvicinamento per Borgosesia rimbalzo d'attacco con il fallo di Rotondo ai danni di Zucca Zucca giocatore molto generoso dal punto di vista delle qualità tecniche avremo qualcosa da ridire però si però intanto ha un attimo imbambolato si è tolto questa soddisfazione di imbambolare Rotondo sotto canestro Salvo poi andare a sbagliare il primo tiro libero Rotondo si è fatto un po' uccellare nella azione precedente fatto sta che si vendica da par suo diciamo che si raccoglie il rimbalzo sul secondo errore consecutivo dalla lunetta Forlì che può forlì che può amministrare tranquillamente la manovra offensiva addirittura con Bonaccini che non ha assolutamente ostacoli a frapporsi fra sé la retina la brucia letteralmente 77 a 50 per Forlì che ora deve difendere e continua però a commettere falli nel pitturato se non sbaglio dovrebbe essere di Gliattoni no Bonaccini lo stesso Bonaccini che è andato a commettere fallo il terzo fallo personale per il playmaker in un voluto a tutti i costi in quest'estate proprio da Gigi Garelli in forza alla sua 1 euro è un ottimo Bonaccini anche questa sera sette punti per lui con il cento per cento al tiro tre rimbalzi anche per l'ex giocatore di Latina l'unico che sia mai stato allenato da Garelli in questa squadra intanto mi sono perso Chiere in lunetta scusami Frambo se va bene lo recuperiamo in qualche modo recuperiamo ero più attento a santificare i due tiri consecutivi i due calestri consecutivi dalla lunetta mentre si arriva la palla proprio in fronto Vaz esatto in qualche modo viene recuperata non sono stato io a darla agli abitri però tra un po' mi prendeva sul naso questo pallone esatto Paolini intanto a gestire il palleggio per Borgosesia nei minuti più inutili del match ne mancano sei saranno veramente lunghissimi da raccontare caro Paso questa è la minestra che ci tocca sopportare per tutta questa stagione ormai si gioca al piccolo trotto la partita non ha più assolutamente nulla da dire pur Accademia cominciano a girare palla i giocatori dell'Uni Euro poi si possono anche concedere queste questi errori in attacco viene persa palla applausi sicuramente per Borgosesia che non molla comunque nonostante il divario nel risultato 77 a 54 a poco meno di 5 a poco più di 5 minuti dal termine del match Iattoni prende la palla si sposta in angolo prova la tripla che va a sbagliare poi Arrigoni va a contendere il rimbalzo palla che carambola oltre la linea di fondo campo ci sarà rimessa per gli ospiti piemontesi intanto recuperato chi aveva realizzato due libri era Edoardo Giovara che in questo modo è andato in doppia cifra anche lui a quota 11 ricordiamo anche il prossimo match per Borgosesia che ospiterà trecate in casa quindi c'è l'occasione nel derby piemontese di rimuovere nuovamente la classifica in una lotta per centrare l'ingresso nei playoff dove obiettivamente Borgosesia se la gioca se la gioca con San Mignato con Monsumano Monsumano in grande crescita e anche con Rimini che vedremo se sarà riuscita a prendere due punti alla fine di questo match contro appunto San Mignato è una sfida molto molto delicata direi che per quanto riguarda le prime sei posizioni siamo già sicuri di chi le conquisterà e poi dopo insomma per il settimo ottavo posto la lotta è molto aperta sì stavo cercando di capire un attimo la situazione in quel di Rimini vedo un 49-39 per per i Malatestiani quindi direi partita ormai indirizzata anche per loro anche se si è ancora un intero quarto da giocare non so se sia indietro il netcasting o se sia successo qualcosa al Flaminio però il risultato per Rimini è più 10 quindi partita che non dovrebbe rischiare di non portare in porto la formazione di coach Mladenov intanto Forlì mi sembra che abbia decisamente staccato la spina in questo finale la riprova è in attacco dove insomma si pasticcia un po' dove il gioco è molto più diciamo improvvisato rispetto a quanto sia stato nei precedenti minuti di gioco mancano 5 alla fine adesso intanto falli in attacco di Giacomelli quarto personale per lui 77 a 55 partia Lino di 5 a 0 per la formazione piemontese però insomma la partita lo sappiamo tutti è già chiusa da un bel pezzo ora l'attacco bianco-rosso vediamo si dipana con Vico per Giattoni Bonaccini c'è il movimento lungo a pendolo sulla linea di fondo di Vico poi Pignatti si prende la stoppata Pignatti recupera però il pallone cerca Rotondo in questo caso avrebbe fatto meglio approvare la conclusione palla persa per lui Giacomelli si impappina e finisce per perdere il pallone con un Bonaccini travestito da Segno Lupin che la tocca da dietro e il tiro di Vico l'errore insomma si sbaglia molto in questo finale e beh sì è chiaro ovviamente la concentrazione è calata tantissimo non c'è non c'è tensione emotiva diciamo così per questi minuti finali c'è invece un siparietto abbastanza interessante da raccontare almeno dal punto di vista giornalistico la seduta in panchina di Arrigoni ha il vago sapore di panchinata punitiva da parte di Gigi Garelli che ha avuto insomma parecchio da ridire nei confronti del proprio giocatore insomma qualcosa da su cui indagare caro Paso al termine del match qualche domandina se avrei voglia di farla alla coach fornivese perché mentre intanto arriva anche la tripla di Gatti di Tabella la Tabella e sua sorella no la tripla di Tabella di Gatti ti dicevo appunto sarebbe veramente interessante perché è veramente offuscato in volto abbastanza arrabbiato coach Garelli intanto l'assist di Rotondo per il rimorchio di Pignatti non c'è più neanche la difesa di Borgosesia e sono 15 punti di Luca Pignatti come sempre giocatore pressoché insostituibile nei meccanismi di Garelli vediamo adesso il minutaggio complessivo intanto segna Zucca segna Zucca ma segnati 32 minuti in campo eh eh beh 38 37 esatto 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 nel frattempo è andato Zucca ha mandato a farfalle ancora una volta rotondo si è fatto aggirare si è fatto raggirare dal dal diretto avversario insomma non ha difeso molto bene è vero insomma la partita obiettivamente non ha assolutamente più nulla da dire però è anche vero è anche vero che insomma ci sono anche partite in cui devi dare anche qualche segnale eh in vista soprattutto a non tanto a Gigi Garelli ma quanto all'ambiente lì un rotondo più deciso più intenso in fase difensiva è quello che tutti i tifosi si aspettano per le partite che conteranno davvero intanto l'errore dalla lunga distanza il rimbalzo di Bonazzini Bonazzini grande partenza davvero ubriaca il difensore avversario che è costretto a spendere fallo parliamo di Giovara tutte le volte che Bonazzini si trova di fronte un giocatore non del suo ruolo lo lascia sul posto come un paletto di uno slalom speciale di sci visto che siamo momenti di sport invernali facciamo questo paragone a zona Borgossese in questo finale di match dove ci sono un po' anche di esperimenti in vista delle prossime partite eh sì zona che non raccoglie i frutti però per quanto concerne l'attacco forrivese con Giattoni che è andato a sbagliare e poi addirittura si stanno tirando veramente fuori tanta aggressività quasi spiegabilmente i ragazzi di Cospanza addirittura ancora un fallo terminale restituiamo la palla al mezzo perché speriamo che finisca il prima possibile a 1.55 hai dato palla a Berardi hai dato palla a Berardi ok io voglio l'assist segnateci un assist per cortesia alla regia o l'assist per cortesia della regia no ma veramente ancora tanta intensità e probabilmente è quello che è mancato a Forlì perché se Forlì avesse giocato con l'intensità che ha messo in campo comunque Borgosiesia la partita sarebbe finita molto prima e secondo me è veramente questo il focus che vorrà affrontare poi coach Garelli in panchina intanto facciamo però anche i complimenti perché lo merita l'animosità positiva insomma di solito il tema l'animosità si usa forse per descrivere per dare una connotazione negativa invece in questo caso lo voglio utilizzare in positivo perché molto molto tenace gioca fino in fondo lotta fino in fondo la squadra di coach Panza da questo punto di vista ci sentiamo di farne i complimenti intanto Paulin se non sbaglio va a segnare ancora esatto Paulin due punti ottimi due punti anche per lui chiaramente con la difesa che lascia correre per non incappare nei falli poi Rotondo però si addormenta questo è un atteggiamento che piace veramente molto poco all'ambiente forlivese ancora due punti quattro consecutivi per Borgosiesia Paulin a like stagionale siamo a 22 ecco Rotondo ha veramente si è addormentato letteralmente con la palla in mano nell'azione precedente poi il contropiede ai due punti per Borgosiesia ripetiamo atteggiamento che non è particolarmente gradito diciamo così per la squadra di Gigi Garelli salvo qualche eccezione di singoli come squadra Fulisia è un po' seduta negli ultimi 5-6 minuti di questo match ora c'è il recupero di Bonaccini che è uno di quelli che invece l'ha giocata fino alla fine si prende il fallo di Paulin oltre al canestro poi Bonaccini guarda male obiettivamente a Paulin dicendo ma insomma questo fallo te lo potevi risparmiare ormai a partita decisa abbiamo già tirato ecco proprio ad esempio a livello di intensità e di voglia di gioco ecco Bonaccini forse è uno dei pochi che sta interpretando al meglio la partita che gli è stata messa a disposizione da Gigi Garelli nel frattempo non so se è per quinto correggimi se sbaglio non credo che abbia commesso 5 falli a Rigoni ma come ti facevo notare non è più sceso in campo 10 per Bonaccini vediamo a Rigoni no no 4 falli 4 falli per lui intanto altra tripla sbagliata le percentuali da 3 punti sono bassissime per quanto riguarda Borgosesia 26% che calerà con questo errore ultimi 25 secondi di gioco è brutta palla obiettivamente per Forlì che la va a perdere vediamo se Lima lo svantaggio ancora con il tiro pesante lo fa lo fa Gatti che è lo specialista di casa Borgosesia 14 punti per lui insomma la partita si chiuderà con Forlì che prova a vedere di toccare quota 88 con quest'ultima azione offensiva mette palla a terra e va in avvicinamento senza trovare però il canestro il giovane Biandolino finisce così finisce comunque con la vittoria 86 a 69 per l'Uni Euro è l'undicesima vittoria consecutiva dei giocatori di Gigi Garelli che mandano a referto Pedersini con 22 punti 19 di Vico 17 di Pignatti e 10 se non sbaglio anche di Bonaccini sono questi i migliori marcatori dall'altra parte 22 di Paolino 14 di Gatti e 12 di Giovara chiudiamo questa telecronica Massimo senza sapere ancora come sarà finita Cecina Piombino perché la partita è a rush finale e in questo momento vedo Cecina in vantaggio di 2 56 a 54 con ancora 5 minuti da giocare quindi ancora da sapere se al termine di questo turno Forlì sarà prima in solitaria o ancora in compagnia di Cecina ciò detto vi salutiamo ribadiamo da parte nostra e da parte di tutti i ragazzi della regia i migliori auguri a voi che ci ascoltate di un felice Natale di un bellissimo 2016 e ci ritroviamo con l'anno nuovo per il derby contro gli Angels e Sant'Arcangelo buona serata a tutti e tanti auguri